Un grande successo per l'Adriatica X-Cross Tour a Coppito. Una gara in memoria di Dimitri Buttarelli che si è svolta nella cornice del parco di Morata Gigotti a Coppito sotto una pioggia battente, ma nonostante questo erano in tantissimi ciclisti a ricordarlo. Una giornata che si è aperta con un minuto di silenzio in memoria di Dimitri con la maglia con il numero uno che è stata consegnata alla famiglia del ciclista scomparso. A pochi giorni dalla morte si è disputata l'Adriatica X-Cross Tour all'Aquila. Dimitri Buttarelli aveva 40 anni, è un ciclista che è morto la scorsa domenica proprio mentre stava disputando la gara denominata Bike Park Monzon a Montesilvano in provincia di Pescara morto mentre praticava proprio la sua più grande passione, il ciclocross. Più di 200 partecipanti e tantissimi gli spettatori. Impeccabile l'Organizzazione per la Sicurezza che è stata curata dalla Proloco di Coppito assieme alla Protezione Civile. La gara è iniziata alle 9.30, divisa per categorie, tanti ragazzi e tanti adulti tra uomini e donne. Un percorso ideato da Mauro D'Alessio di circa 2,5 chilometri molto impegnativo con tratti tecnici, passaggi difficili tra sabbi e ostacoli di vario tipo e tanto sorprese per i partecipanti. La premiazione da parte del Presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana Mauro Marrone.